Si è svolto ieri pomeriggio all'Alma Già l'incontro pubblico con il ricercatore Marco Costantino, coautore del libro Il commercio equo e solidale alla prova dei fatti, per parlare di economia della responsabilità sociale. Un incontro organizzato da Villaggio Globale per ricordarci di come i gusti e le scelte dei consumatori del Nord possono avere un impatto sulla vita dei produttori del sud del mondo. Marco Costantino, commercio equo, che cosa deve sapere il consumatore? Innanzitutto il consumatore deve imparare a riconoscere che cos'è il commercio equo e solidale. Purtroppo in Italia non esiste ancora una legge nazionale che stabilisca quali sono i criteri affinché un prodotto possa dirsi di commercio equo e quindi dobbiamo affidarci ai marchi che si è dato il movimento. L'organizzazione di cui faccio parte, Altro Mercato, è un consorzio di cooperative sociali che sono le botteghe del mondo che si trovano su tutto il territorio e si è dotato al suo interno di un sistema di garanzia, cioè di un gruppo di volontari che come me visitano le organizzazioni dei produttori per verificare il rispetto dei criteri da parte dei produttori. Quindi i prodotti del commercio equo solidale che hanno il marchio Altro Mercato rispettano questi criteri e il loro rispetto è verificato dal comitato progetti, cioè l'organizzazione di cui faccio parte. Un'altra possibilità è acquistare anche nella grande distribuzione organizzata i prodotti a marchio Fairtrade che è un'organizzazione sempre all'interno del movimento che si occupa di certificare anche essa il rispetto dei criteri del commercio equo apponendo un marchio che è ritrovato sulle confezioni dei prodotti e che è un marchio che ha la figura di un omino con dei colori celeste e verde. Oggi siamo qui per raccontare delle storie. Sì, oggi pomeriggio vi presenterò delle storie di alcune organizzazioni di produttori di commercio equo che abbiamo visitato nel corso degli ultimi anni. La prima riguarda un'organizzazione vietnamita che lavora nel nord del Vietnam al confine con la Cina con un gruppo di produttori di una minoranza etnica che si chiama Mong in Vietnam e che è in qualche modo marginalizzata rispetto alla maggioranza kin che governa quel territorio. Il lavoro importante di questa organizzazione è quello di rivalutare la cultura di questa minoranza etnica proprio attraverso il lavoro artigianale, riscoprendo quindi disegni e materiali che sono tipici di quel luogo. Poi parleremo di un'organizzazione africana, Merwerbs in Kenya, un'organizzazione che lavora al centro del Kenya, alle pendici del Monte Kenya, la cui esperienza è iniziata grazie ad un volontario italiano, Andrea Botta, che ha organizzato una serie di contadini per la produzione e quindi il commercio di carcadè e altre tisane e marmellate di frutta. Poi ancora Minca, un'organizzazione artigianale peruviana che lavora dei tessuti in alpaca e fa anch'essa un grande lavoro con le comunità Quechua al confine con la Bolivia sulle sponde del lago Titicaca e infine una storia particolare, quella che viene da quello che da molti è considerato il paese più felice del mondo, il Costa Rica, un'organizzazione che produce caffè e zucchero a impatto ambientale zero. Il vostro libro tratta comunque dell'impatto del commercio equo solidale. Insieme all'Università di Roma Tor Vergata abbiamo fatto delle ricerche somministrando dei questionari di circa un centinaio di domande a dei produttori di commercio equo per verificare se il commercio equo mantiene le sue promesse, ossia se effettivamente i produttori di commercio equo stanno meglio rispetto ad altri produttori che nelle stesse zone operano ma si rivolgono al mercato tradizionale. I risultati di queste ricerche sono incoraggianti perché ci dicono che il commercio equo non solo è più efficace da un punto di vista reddituale, quindi offrendo un prezzo migliore per i prodotti e quindi un reddito disponibile superiore per le famiglie, ma anche direi soprattutto da un punto di vista sociale favorendo le relazioni sociali all'interno delle comunità e addirittura i produttori di commercio equo si dichiarano mediamente più felici e più soddisfatti del loro lavoro e del loro livello di vita. Manuela Foiera per Ravenna Web TV